Eurovolley 2017, Italia, Georgia, le pagelle Ecco le pagelle della partita inaugurale dell'Europeo di pallavolo femminile, in cui l'Italia si è imposta 3-0 sulla Georgia. Alessia Orro 6.5, inizio timido nel primo set dove non prende la squadra in mano. Più si va avanti nella partita e più prende fiducia, giocando sempre meglio e servendo buoni palloni alle compagne. Paola Egonu 8.5, punti diretti dal servizio e ottimi attacchi che distruggono la difesa georgiana. Una ragazza del genere è fuori luogo in un incontro di basso livello. Cristina Chirichella 8, infila muri uno dopo l'altro rendendo la vita difficile alle nostre rivali. Nel secondo set, una scarica imbattuta, sembra pronta a portarsi sulle spalle le azzurre. 5, molto concreta e senza fronzoli, si muove bene in difesa e si fa anche notare in attacco con diversi palloni messi a terra. Monica De Gennaro 7.5, la De Gennaro è semplicemente ovunque, difende il possibile e oltre. Se l'Italia è molto efficace in attacco, lo deve anche al suo libero. Caterina Bosetti 8, è l'esperta del gruppo e si fa sentire. Non sbaglia niente o quasi. 5, sostituisce molto bene Lucia Bosetti, entrando in campo con giusto piglio e mettendo a segno pregevoli soluzioni.